Il riverente quanto basta, assurdo ma non troppo, Michael Palin, attore, sceneggiatore e scrittore britannico, noto principalmente per il suo lavoro con i Monty Python, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine di San Michele e San Giorgio dal Principe William a Buckingham Palace. I meriti riguardano il suo contributo nella commedia ma anche e soprattutto per i suoi servizi in ambito culturale di viaggio e geografia, essendo stato negli anni al centro di numerosi documentari di viaggio. Palin resta comunque famoso per gli sketch del gruppo teatrale da lui fondato di Monty Python alla fine degli anni 60. Eccolo qui insieme al gruppo, continuiamo a ridere e ci facciamo ridere a vicenda, ci piace ritrovarci e fare anche delle stupidaggini, non pensavo si potesse essere così scemi dopo i 70. E di stupidaggini, stupidaggini.